In questo video parliamo del tempo d'indurimento di Artresin. Coprite la parte per proteggerla dalla polvere e farla riposare per una notte. In circa 24 ore il pezzo sarà indurito al tocco. Dopo 72 ore sarà del tutto indurito. Non scordate che il tempo di indurimento sarà minore in una stanza più calda. Ora siete pronti per il settimo passo.